I lavori avviati lo scorso lunedì a Giulia Nova che stanno interessando il rifacimento del manto stradale nelle vie Lepanto, Simoncini e Annunziata, stanno creando non pochi disagi alla viabilità sulla stata all'Adriatica. Lunghe code anche di diversi chilometri, in particolare nelle ore di punta, hanno paralizzato la città. Numerose le segnalazioni e le proteste da parte di cittadini non solo per gli evidenti disagi causati dalla chiusura di un'arteria fondamentale per la cittadina costiera, come biennuziata, tra i fattori che più hanno incentivato la congestione del traffico e la chiusura del ponte di via Lepanto e che obbliga gli automobilisti ad imboccare il sottopasso di via Salerno per svoltare verso il mare. Lavori che dovrebbero terminare come da cronoprogramma per l'inizio della prossima settimana. Siamo subito corsi e ripari, abbiamo messo a lampeggio gli impianti sefaforici, abbiamo impiegato i nostri vigili, d'altronde i lavori creano sempre dei disagi. Abbiamo dopo tanti anni previsto di riasfaltare, di portare avanti il piano asfalti, riasfaltando via Annunziata, anche via Lepanto, ancora qualche giorno di pazienza e poi risolveremo il tutto, avremo sicuramente una città con una migliore viabilità e una maggiore fruibilità. C'è chi ha detto ci sono troppi pochi vigili, questo anche causato dalla questione Covid? Allora abbiamo innanzitutto purtroppo molte unità sotto Covid e questo riduce di tanto la nostra capacità operativa. Tutte le risorse che abbiamo comunque le abbiamo lì impiegate sul posto al fine di poter far defluire il traffico nel miglior modo possibile. Ancora un po' di pazienza e poi come ripeto e come ho detto avremo sicuramente una viabilità migliore. In questi due anni e mezzo siamo intervenuti su quasi tutte le vie di accesso delle città, abbiamo migliorato e dato da subito una comunicazione di una città accogliente e ospitale. Abbiamo anche riqualificato il centro quale biglietto da visita per i turisti e fatto una serie di iniziative perché la nostra ambizione è proprio quella di diventare una vera e propria destinazione metaturistica. Grazie.